Ragazzi, allora, buona giornata a tutti, ho gli occhiali perché devo leggere ovviamente qualcosina inerente al primo argomento di oggi Siccome molti mi hanno chiesto cosa li si rischia, cosa non si rischia, plus Valenze, caso plus Valenze Juventus Sapete bene che ieri si sono chiuse le indagini, che appunto l'accusa avrebbe appunto chiesto i domiciliari per quanto riguarda Andrea Agnelli Cosa, secondo me, per quanto io ce la posso avere con Agnelli, per me comunque è una cosa insensata, tant'è che è stata respinta questa richiesta Allora, velocemente, io vi consiglio di andare a leggere il post lunghissimo che ha scritto Cristian Belli sulla sua pagina ufficiale Che spiega molto bene, riporta tutto quello che viene contestato alla Juventus e spiega molto bene in generale appunto i vari punti E poi cosa prevede lui, più che altro la sua sensazione tramite anche le sue competenze comunque che ha in quest'ambito qua Allora, iniziamo subito velocemente, non vi leggo tutto, anzi vi leggo un cazzo, vabbè a parte qualcosina Cerco di farvi un riassunto, allora la Juventus vengono contestati, viene contestato il fatto che nel 2020 In quel periodo che tutti sappiamo benissimo, la Juventus, diciamo, avrebbe fatto passare il messaggio che si sarebbe messa ad accordo con i giocatori Per non pagare 4 stipendi, invece non ne ha pagato solo uno, gli altri 3 sono stati suddivisi nel bilancio successivo Cosa che hanno fatto molte società, però qua subentra una cosa, un problema, un problema che vi dico sia in ambito sportivo Sia in ambito economico o comunque per queste cose qua, che è la borsa Cioè, purtroppo, purtroppo, il fatto di essere quotato in borsa poi fa pesare molto di più queste indagini Fa pesare molto di più quando tu di fatto posticipi magari il bilancio, no? Nel senso che comunque per rientrare e comunque perché avevamo problemi un po' tutti in quel periodo lì Per rientrare e per non far sì che, insomma, che si creino altri problemi Tu posticipi e paghi nel bilancio successivo Quindi è andato a pesare nel bilancio 2021 e non nel bilancio 2020 Quelle 3 mensilità, appunto, sono andate a pesare quelle 3 mensilità che non sono state pagate subito ma che sono state distribuite Solo una mensilità non è stata effettivamente pagata Poi, un'altra accusa è il fatto che praticamente la Juventus negli ultimi bilanci, se non sbaglio, 18, 19, 20, 21 Avrebbe praticamente non dichiarato, appunto, l'effettivo bilancio Nel senso che a volte addirittura ha presentato un positivo quando c'era un negativo O ha presentato un negativo inferiore rispetto a quello che era Quindi queste cose qua che poi sono sicuramente delicate Quindi non vado ad approfondire perché comunque sono consapevole di essere ignorante in materia Quindi cerco anche di andare un po' per supposizioni, per sensazioni mie Insomma, valutando un po' un'idea che mi sono fatto io Poi chi ne sa di più magari può tranquillamente commentarmi qui sotto ovviamente Però queste cose qua, questi bilanci che appunto non sono stati Sarebbero stati, usiamo sempre il condizionare Sarebbero stati dichiarati ma non È lì che parte il falso in bilancio Non sarebbe stato dichiarato Non la cifra giusta, ok? Non il bilancio giusto E lì parte una serie di cose Perché poi a livello sportivo ti possono rompere le balle Se poi vanno a verificare che dichiarando una certa cosa anziché un'altra cosa Tu sei riuscito ad iscriverti al campionato Cosa che per la Juventus credo non sia verificabile questa cosa qui Perché è una società talmente grande e con talmente tanti introiti Che è veramente difficile dimostrare una cosa del genere Anche perché per me non esiste una roba del genere Però essendo quotato in borsa Il fatto che tu dichiari non il bilancio corretto È lì che nascono altri problemi Questo è un grandissimo Per questo dico leviamoci dalla borsa Finché siamo in tempo Perché poi queste cose qua vengono ampliate Allora io tra l'altro non ho visto tanti youtuber Ad esempio fare video contro di noi Poi ci saranno sicuramente molti tifosi di altre squadre Che ci attaccheranno Ci siete sempre in mezzo voi Ci siete sempre in mezzo voi e quant'altro Però ci siete passati prima voi di noi Da questa cosa qui Il problema è che Inter e Milan non erano contati in borsa Il problema è la fortuna vostra Perché poi quello secondo me va a pesare di più Infatti un'altra accusa è l'accusa di aggiottaggio L'accusa ai danni della Juventus Aspettate che leggo qua un attimo Allora Non vi leggo le varie cifre Dei bilanci che vengono contestati Ad alcuni indagati è stato anche contestato Il reato di dichiarazione fraudolenta Mediante uso di fatture per operazioni inesistenti In quanto secondo la procura La società bianconera avrebbe corrisposto ad agenti Cioè a fornitori strategici per l'impresa Somme per prestazioni che non hanno trovato riscontro E che pertanto sono considerate inesistenti Con contestuale danno all'erario Per indebita detrazione dell'IVA Altro reato contestato Ostacolo all'esercizio delle autorità di pubblica vigilanza Regolamento Articolo 2638 Credo che sia codice civile questo Poi Questo è quello che Insomma che hanno riportato le accuse E quant'altro Poi dice la sua Partiamo dalle basi qua Non serve che legga Allora l'avviso di garanzia Non è altro che appunto L'avviso diciamo Da quello che ho capito Che Tra virgolette Si è indagato Ok ma non è Conseguenza di Condanna Perché molti Pensano Avviso di garanzia Uguale condanna È una cazzata Ok quindi Lo dice anche lui Nel In questo In questo Spezzone qua In questo pezzo qua Del suo post Poi gli indagati Dagli atti Risultano 16 indagati Tra i quali Come facilmente Deducibile Presidente Andrea Agnelli Ed il vice Pavel Nedved Vi sono anche componenti Del CDA La procura di Torino Aveva chiesto Al GIP L'applicazione di misure Contelari personali Per alcuni indagati E reali Come sono definiti Il sequestro Conservativo O preventivo Tale richiesta È stata rigettata Dal giudice Con apposita ordinanza Contro questa La procura Ha depositato appello Focus importante Sulle contestazioni Attenzione Il reato Di false Comunicazioni sociali Delle società Quotate Contestato Dalla procura È regolamentato Dal codice Di procedura civile All'articolo 2622 Che ha subito Una modifica Vabbè Con un altro articolo Il reato Della specie È integrato Quando nei bilanci Nelle relazioni Nelle altre Comunicazioni sociali Dirette ai soci O al pubblico Si espongono Consapevolmente Fatti materiali Non rispondenti Al vero Ovvero Si omettono Fatti materiali Rilevanti La cui comunicazione Imposta Dalla legge Sulla situazione Economica Patrimoniale O finanziaria Della società O del gruppo Al quale La stessa Appartiene Il reato Di false Comunicazioni sociali Rientra nella categoria Dei cosiddetti Reati propri E cioè In quella classe Di reati Che per Poter essere Perpetrati Richiedono Al soggetto Agente Il possesso Di una Specifica Qualifica Personale Vabbè Rispondono Al reato Di false Comunicazioni Sociali Gli amministratori Direttori Generali Vabbè Vediamo Cosa dice Lui Ma quali Sono i fatti Materiali Non rispondenti Al vero Esposti Al mercato Ovvero Non comunicati Configurano Il reato Di false Comunicazioni Sociali Deve Trattarsi Di fatti Materiali Non Un rispondente Al vero O vero Di fatti Materiali Rilevanti Non comunicati Relativi Alla situazione Economica Patrimoniale O finanziaria Della società O del gruppo Al quale si appartiene Dunque Non ogni fatto Materiali Non rispondente Al vero O non comunicato Integra La condotta Antigiuridica In esame Ma solo Quelli Che in qualche modo Appaiono Più incidenti Ai fini Della valutazione Circa L'andamento Della società E la sua Situazione Economica Patrimoniale Finanziaria E sempre Che essi siano Ricompresi Ricompresi Nei bilanci Nelle relazioni O nelle altre Comunicazioni Sociali Dirette ai soci O al pubblico Imposte Dalla legge Va poi Considerato Un altro aspetto Anch'esso decisivo La circostanza Che la falsa Comunicazione Sociale Deve essere Articolata In modo Concretamente Idoneo Ad indurre Altri In errore E vabbè Qua Spiega Più o meno Questa è solo Spiegazione Termini E concetti Che leggerete E magari Non comprenderete A fondo Lo svolgimento Del procedimento Ricordo a tutti Che la difesa Ha 20 giorni Di tempo Per portare Elementi e prove Prima della decisione Inerente L'invio A giudizio Sono una realtà Assestante Dove nessuno Deve fare 2 più 2 Ipotizzando a caso Ok Di recente Vi è stata Una sentenza Del tribunale Di Milano Decima sezione Inerente Grosso modo Agli stessi capi D'accusa In un contesto Ovviamente Differente Che ha portato Alla soluzione Degli imputati Ergo Calmi Non fatevi Trasportare Dei sentimenti E' arrivato Quel famoso momento In cui Quanto Ebbì A ripetere Lo sfinimento In un anno E mezzo Si configura In realtà Non c'è solo Il rettangolo verde La storia del club Che amiamo Passa anche Da questi fatti Non disinteressatevene Chiedovenia Per eventuali omissioni O errori Di battitura O di altro Ritengo Doveroso Oppinare Che la richiesta Fortunatamente Rigettata dal GIP Dei domiciliari Per il presidente Andrea Perché è una cosa talmente Particolare Talmente O sei veramente Quanto meno Dentro al mondo Della giurisprudenza E di questi aspetti Particolari O è veramente Sapete bene Un secondo me Però Non è A molti Diciamo Intrecci Perché Ha delle diversità Con altre situazioni Perché la Juventus È quotata in borsa Perché ci sono altre situazioni Allora Per quanto mi riguarda Io penso Che Vada Tutto In un nulla Di fatto Nel senso che Al massimo Pagheremo Una multa pesante A livello di società Juventus Al massimo Si potrà arrivare A Diciamo Condanne Singole Ok Dei tesserati Al massimo Non Non ritengo sia Possibile Arrivare a penalizzazioni Perché Penso E credo Da quel che Io penso di aver capito Che le penalizzazioni O Le retrocessioni Nel caso Più Estremo Andrebbero date Solo Nel caso In cui Ci sia stato Un beneficio Sull'iscrizione Del campionato Se non In altre In altre Competizioni Quindi Non credo Ci possa essere Il rischio Di Diciamo Penalizzazioni Sportive Ok Io Dal canto mio Vi Leggendo anche Quello che ha scritto lui Anche sull'ultimo pezzo Vi Rassicurerei Nel senso che State calmi Che ci sono Comunque dei precedenti In altre situazioni Anche se Comunque con qualche dettaglio Differente Sicuramente E situazioni Che sono andate Poi Appunto Hanno dato nulla di fatto Quello che a me Dà fastidio Purtroppo È che comunque Si prende sempre la Juventus Per avere il caso Eclatante Come quella volta Del discorso Biglietti Che anche appunto La responsabile Di quella Diciamo Di quelle Di quelle indagini Lì Disse che Hanno preso la Juventus Perché comunque Ha un nome Importante Quindi fa più Risonanza Mediatica Quando poi Magari ci sono Cose magari Uguali Se non peggiori In altri In altri ambienti Però Non si è Approfondito In altri ambienti Si è approfondito Solo nel caso Juventus Ed è la Juventus Che sta pagando Più di tutto Perché poi c'è stata Sta battaglia Sapete bene Società tifosi E quant'altro E siamo noi Alla fine A pagare La spaccatura Una delle spaccature Che poi ci ha portato A questo Disastro Anche sportivo Secondo me È arrivato È partito Anche da quel discorso là Però Purtroppo ragazzi Quando c'è la Juventus Di mezzo A livello mediatico E non solo Si fa presto A sparare merda Si fa presto A condannare Si fa presto A spaccare Questo ambiente Poi in questo momento qua Siamo divisi Tra di noi Quindi è anche Molto più facile Attaccarci A differenza Magari di 5 6 anni fa In questo momento qua È anche molto più facile Bisogna dire anche questo E quindi Qualche responsabilità Ce l'abbiamo pure noi Mi ci metto in mezzo Pure io Però Giusto per farvi capire Detto questo Io chiudo il capitolo Appunto plus valenze Perché comunque Ripeto Sono abbastanza ignoranti In materia Bisognebbe veramente Informarsi fino in fondo E quindi Se qualcuno Sa meglio di me Ben venga Io Cioè Il primo punto Diciamo Dell'intelligenza È l'ammettere La propria ignoranza Su alcune cose Infatti io sono ignorante In questa materia qui Quindi Se potete Tranquillamente Potete scrivere Dove ho sparato Cazzate Dove appunto Ho detto bene Se volete Anzi Aggiungere qualcosa Di informazione Ben venga Anche appunto Perché In questi momenti Bisogna Informarci a vicenda Se sappiamo Qualcosa in più Dell'altro Detto questo Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo Torniamo al campo Stasera c'è Benfica Juventus Una delle sei partite Fondamentali Perché io L'ho detto prima Del Maccabi Haifa Della sconfitta Che abbiamo Preso Abbiamo avuto Appunto Ad Haifa E ho detto In quel caso lì Adesso ci siamo messi In una condizione Che qualsiasi partita D'ora in avanti È fondamentale Quindi non è che Lisbona è fondamentale Il Paris Saint-Germain È fondamentale Mentre il Lecce Un po' meno No Sono tutte partite fondamentali Per una competizione O per l'altra Per una questione Anche di autostima Perché questa squadra È molto debole Sotto l'aspetto Appunto Della personalità Quindi Basta anche una sconfitta Magari anche brutta Per far ricadere Anche perché Ieri ragazzi Allegri ha parlato Cioè io Cos'è che Che domanda Gli hanno fatto Momento magico Io mi aspettavo Che Allegri rispondesse Ma che momento magico Cioè Gli dico Gli posso dire di tutto Ad Allegri Ma che Insomma Sotto questo aspetto Mi sarei aspettato Un po' più di intelligenza Da parte sua Invece lui Lui ha ribadito Eh ma il momento magico Dipende anche Insomma da Da Lisbona Però ha sottolineato Che è un momento magico Dopo due partite Poi ha riparlato Della fase difensiva Cioè Allegri ragazzi Purtroppo Non Poi ha detto Dovessimo essere eliminati Domani Non è un mio fallimento Ma stai scherzando Se tu oggi esci Al di là Anche se nel caso In cui dovessi vincere Lo scudetto Tu hai fallito Perché tu sei tornato E devi essere tornato Per quella coppa Non per lo scudetto Non è che lo dico adesso Lo dico Già Da quando è tornato Praticamente Che Sembrava quasi scontato Che portasse a casa Almeno lo scudetto Nel giro di un paio di anni No Non lo dico adesso Quindi adesso È troppo facile Dire Vabbè Non discusso Champions Ma adesso Uno dice Ma che cazzo dici A Champions Già è difficile Vincere il scudetto Ma Io parlo Per quello che dicevo già Quando è tornato Con tutti i dubbi Tutte le certezze Che avevo su di lui Avevo fatto Mi ero detto Una speranza Che in questi due anni Si sia un po' modernizzato Ed era una speranza E mi sono sbagliato Perché si è incoglionito Ancora di più E l'altro era Appunto che Fosse tornato Con più ambizioni Rispetto a Quando ha lasciato La Juventus Perché non può essere tornato Per vincermi a livello qualitativo Gli stessi trofei Che ha vinto prima Ma deve essere tornato Per una Diciamo Una voglia di rivalsa E di rivincita Per vincere Quello che non è riuscito A vincere In quei due anni là Di Berlino e Cardiff Quella era Quella era la mia speranza Quando parlo E dico che Allegri è tornato Nella sua comfort zone Non solo perché Qua era quasi convinto Di poter vincere lo scudetto Vinci lo scudetto Dopo anni che non lo vinci Quindi qua Purtroppo La maggior parte della tifoseria Ti fa passare come eroe Perché di fatto La maggior parte della tifoseria Magari fosse veramente L'ossessione da Champions Purtroppo L'ossessione rimane lo scudetto Ci ho fatto un video Qualche anno fa E purtroppo Questa è la verità Lui è tornato Cioè deve essere tornato Perché Quando parlo Il comfort zone Vi dico questo Perché fosse andato a Madrid E avesse fatto Questi due mesi Che ha fatto da noi a Madrid Beh non sarebbe neanche Durato una settimana Va bene Una settimana no Però tre settimane Non sarebbe neanche durato A Madrid Perché a Madrid Ti esonerano Anche se vinci La Liga Spagnola Ma non vinci la Champions Figurati se parti male così Hanno esonerato Se non sbaglio Benitez Subentrato Zidane Che ha vinto Tre Champions di fila Cioè capite Anche là Il discorso del cambio Allenatore Il discorso del gioco Che qua la Juve Non lo potrei mai vedere Ma chi lo dice Chi lo dice Voi lo dite La società lo dice Ma con questa mania Del Dobbiamo tornare a vincere subito Questo Può essere il terzo anno Che giri a vuoto Mentre dopo Sarri Se non volevi continuare Con Sarri Che sicuramente I suoi limiti Ce li aveva E a livello tattico Per me È migliorato In questi anni Ma dopo Sarri Lì dovevi prendere Un Tenag E io lo ripeto Lo dicevo all'epoca Adesso lo sottolineo Ancora di più Ok Perché sto vedendo Comunque il lavoro Che fa Allo United Che non è Pazzesco Perché Ragazzi Tenag è allo United Da due mesi E si vede già Più la mano di Tenag Allo United Che quella di Allegri Allo Juventus O meglio La mano di Allegri Allo Juventus Si vede Ma in peggio Questo è il problema Invece Tenag Si vede Che le sue idee Le sta dando Certo Comunque Cercando di Non adattarsi Però Cercando di Approfittare Delle caratteristiche Che hanno I vari giocatori Che ha A disposizione Ovvio Non è i giocatori Che aveva l'Ajax Quindi deve stare Un po' Più accorto Sotto quell'aspetto Però adesso Magari Al terzo anno Di Tenag Un attore Appunto Non italiano Con un progetto serio Con giocatori Con senatori Cacciati magari Via prima Con Ronaldo Cacciato via prima Con Diciamo Giocatori Che pensano a bilancio A livello di ingaggio Cacciati prima E quant'altro Probabilmente Saresti in una situazione Migliore adesso Ok Questo è il problema Quindi Purtroppo Purtroppo Bene Io direi che Siamo a posto Purtroppo Questo è il Il problema Appunto Della Juventus Di questi anni Ieri tra l'altro In una live Di Arena Sportiva Ho detto Il problema È che stiamo pagando Le varie Dietribe Che hanno società Da anni Le varie scelte Che fanno Per propri interesse Non per l'interesse Della Juventus Poi devo sentire Un giornalista Che non faccio nomi Che ha fatto Un video Qui su Youtube Che fa Youtube Anche Che Deve insegnare Anche come ti fare Il bene Della Juventus È che alle Gagneli Se ne vadano Il bene Della Juventus In questo momento qua Perché io non guardo Ripeto All'Italia Perché in Italia Torneremo a vincere È una cosa Matematica È automatica È l'Europa Che dovremmo puntare noi E se io devo guardare Al bene Della Juventus In Europa Agnelli Allegri Sono una combo Perdete Perdente in Europa Poi possiamo parlare Anche della proprietà Elkan Perché non è che Gli Elkan Siano così amanti Della Juventus Juventus Ferrari Per gli Elkan Diciamo Sono Due mucche Da mungere Ecco Diciamo così Ma non c'è Veramente un vero Interessato All'ambito sportivo Della Juventus E a far Tornare la Juventus Sul tetto D'Europa E del mondo E non solo D'Italia Non ce n'è uno Veramente interessato Se non Tifosi come me Questo è il problema Quindi qua si dice Non sei tifoso Perché di qua Perché di là Perché critiche allegri Anche quando vince 4-0 Con l'Empoli Cosa devo fare? Esaltarlo Perché ha vinto Contro il Real Empoli Se poi noi andiamo Contestualizzare Quella partita Hai fatto Quattro gol Su tre cross Su 22-23 gol Ho fatto la live ieri Su 22-23 gol In questa stagione Tra il campionato E il Champions League Tu hai fatto Solo sei gol Su azione Sei gol su azione Costruita Scusate Dei quali Tre su contropiede E gli altri Tutti su cross Calci piazzati Rigori O su cazzate Avversarie Anche contro l'Empoli Ripeto Quattro gol Tre su cross E solo il quarto gol È stato un po' Costruito E non basta In questa Juventus Qua vedo molto La Juventus Di Conte In proporzioni diverse Perché lì si vinceva Ma nel senso che Level intensità Questa squadra Non ha idee Non ha meccanismi Non ha Un cazzo Questo è Comunque Tornando ben fica Juventus Oggi ragazzi È una partita Che io ripeto Da qualche settimana Per me oggi Juventus farà La miglior prestazione Di questo inizio di stagione Non vincerà Secondo me Quindi usciremo stasera Secondo me Poi spero di sbagliarmi Perché Per carità Tanto alla fine Dobbiamo Mi sa che dobbiamo andare avanti Con Allegri Fino a giugno Quindi Anche con la difesa 3 Difesa 5 Purtroppo è una squadra È una difesa Che in Europa Raramente Ha pagato Con il Chelsea E in altre poche situazioni Ma al 95% De volte Che ha vinto a Champions Ha sempre vinto a Champions Con la difesa 4 Quindi Vabbè Comunque a parte questo Ragazzi Oggi Inizia Il primo Vero Rush finale Perché ci saranno Vari rush finali Però Cioè questo Da oggi A Lisbona Potremmo Sapere Cosa Diciamo Che competizioni Dovremmo affrontare A gennaio E in che no In che ottica Dovremmo metterci Da gennaio Cioè Un altro anno Di sopravvivenza Quindi per limitare i danni O potremmo puntare A un qualcosa A livello di trofei Quello è un altro dubbio Poi c'è qualcuno Che mi domanda Ma in caso di Europa League Che non è scontata Neanche l'Europa League Perché siamo A pari punti A pari scontri diretti Con il Maccabi Haifa Quindi Però a dire questo Dipende come sei Perché io Ripeto Del posizionamento Me ne frega nulla Arrivo terzo Quarto Non me ne frega nulla Arrivo anche quinto Non me ne frega nulla Perché se Arrivare quinto Fuori dalla Champions Significa Tornare a fare scouting E ricostruire Con intelligenza E magari Liberarsi di quegli Ingaggi là Pesanti Che magari i giocatori Decidono di andarsene Perché non fai la Champions Ma ben venga Cioè Scusate È brutto dirlo Ma Bisogna fare di necessità virtù Quindi Non mi interessa Ok Se non vinci Non me ne frega nulla Di arrivare terzo Quarto Ecco Capiamoci Quindi a febbraio In altri anni Vi avrei detto Beh Se sono terzo Quarto Non punto L'Europa League Punto più che altro Quarto posto Ma L'Europa League Sapete bene Che per me È una competizione Da serie B A livello europeo È inferiore a Champions Scudetto L'Europa League Quindi Secondo me Ovviamente Però Chissà Fai l'Europa League Vinci un trofeo europeo È un trofeo diverso Rispetto agli ultimi trofei Che hai vinto E magari può darti Anche una scossa Arrivi in Champions Certo non è Facile Vincerlo Perché questa Europa League Secondo me Sarà una delle più difficili Gli ultimi anni Però Senza Già ipotizzare l'Europa League Noi siamo ancora in Champions Quindi Stasera giochiamoci Per Cioè Non è che sei da dentro fuori Oggi ti giochi La sopravvivenza in Champions Cioè Nel senso che Se te la potrai giocare Fino all'ultima giornata Perché se Non vinci Sei fuori matematicamente Se vinci Non sei dentro Questo è il discorso Vabbè Oggi Parte quest'ultimo Rush finale Vedremo come andrà a finire Io Comunque vado a questa stagione Sapete bene Quella penso Allegri fuori dalle valle E via Basta Perché Ha dimostrato di non sapere Modernizzarsi Di dover avere per forza La squadra più forte Il campionato Ma Che arriva Da Da una mentalità vincente Come era Quando la ripresa Bravo lì a sistemare i dettagli Bravo lì a portarci Poi in finale Che comunque Era una squadra Non scarsa Era Conte che La svalorizzava in Europa Secondo me E la svalutava in Europa Quindi Allegri Semplicemente Ecco io l'ho sempre considerato Allegri un normalizzatore Adesso secondo me Non riesce a fare neanche il normalizzatore Forse Ripartito Ricordiamoci che l'anno scorso Si parlava Si diceva L'anno prossimo sarà fondamentale Partire meglio Adesso si Hai 4 punti in più rispetto All'undicesima giornata Dell'anno scorso Però 4 punti in più All'undicesima giornata Sono pochi Ne avresti dovuti avere 6-7 Fino a qualche Settimana fa Ne avresti dovuti avere 4 Ma adesso ne avresti dovuti avere Già 7 6-7 Capite? Quello è il senso Però Vabbè Niente Adesso vedremo Come Tanto la formazione sapete 3-5-2 5-3-2 Per me ragazzi A partita di oggi Non è facile da Diciamo Leggere Però secondo me sarà così La Juventus cercherà di aggredire il Benfica subito Cercherà di pressare alto Cercherà di pressare a Duomo Certi giocatori Il Benfica Cercheremo di pressarli a Duomo Appena hanno il pallone Cercheremo di non dargli spazi Però più andrà avanti la partita Più rimarrà magari sullo 0-0 Quanto altro Sappiamo come ragiona Allegri E lo sapete benissimo Anche voi Nelle conferenze stampa Passate Anni fa Lo disse Il gol lo puoi trovare anche al 93 Quindi per lui sarà fondamentale Non prendere il gol oggi Purtroppo però solamente è così Lui punterà siccome a vincere 0-1 Ha detto due gol di scarto 0-2 Sì Però siccome se lui vince 0-1 È già contento Quindi Anche se comunque Tu dovessi vincere 0-1 Sei comunque quasi fuori Perché se il Benfica L'ultima Dovesse anche solo parizzare Col Maccabi Haifa Tu dovresti vincere tipo 3-4-0 Col PSG Alcelaifi non aspetta Altro che buttarci fuori Che buttare fuori Agnelli Dalla Champions Quindi figuriamoci se Ci stenderanno il tappeto rosso Magari sono già qualificati i primi Ma non ci stenderanno per niente Il tappeto rosso Vabbè Detto questo Ve l'avevo detto all'inizio Quando ci sono stati i sorteggi Non sarà un girone facile E per me Rischieremo veramente di uscire Ma non perché sono PSG Benfica Squadre temibilissime Cioè vi ho detto Benfica viene sottovalutato Le squadre portoghesi Vengono sottovalutate molte volte Ma non è per quello Perché questa Juventus qua E quella Juventus lì Che Vi ricordate fino agosto Essendo che comunque Si giocava Si sarebbe giocato una volta Ogni tre giorni E da lì Ad ora Sarebbe cambiato Non moltissimo La preoccupazione Era per la Juventus Perché per me il PSG Una squadra organizzata Va a Parigi E lo batte addirittura Cioè il Benfica Ha pareggiato Parigi E Come prima Come testa di serie Cioè possiamo parlare Di terza fascia Che c'è andata male Ma come testa di serie C'è andata siccome è bene Perché il PSG Viene siccome è sopravvalutato Fuori maniera Per quei tre giocatori Che ha davanti Ma per me Una squadra Con logica Organizzata Strutturata bene Amalgamata molto bene Forte Per me batte il PSG Almeno una delle due partite Ma anche in casa loro La batte Lo batte Secondo me Quindi per me Non è questo Era un girone difficile Da non prendere sotto gamba Ma non è questo Non è stato questo girone Impossibile Come adesso Molti cercano di far passare Pur di giustificare Allegri Ecco Vabbè Buongiorno a tutti ragazzi Ci vediamo un po' di post partita Di Benfica Juventus Stasera E fino alla fine Sembra comunque Forza Juventus Grazie a tutti